cari ragazzi buongiorno a tutti dalla corale universitaria di torino e da me che sono paolo zeltrong e ne sono il direttore artistico la corale universitaria in questa giornata così importante vuole presentarsi a voi a tutto l'ateneo raccontandovi brevemente chi siamo e salutandovi con un inno universitario che penso potrete anche riconoscere la corale universitaria è un coro che nasce nel 1954 grazie all'iniziativa di un gruppo di studenti e pensate da allora non ha mai interrotto la sua attività infatti è il più antico coro universitario italiano se consideriamo il fatto che alcuni magari nati anche prima hanno per un certo periodo di tempo dovuto interrompere la loro attività musicale io la dirigo da un po di anni ma prima di me ci sono stati alcuni dei più importanti maestri della coralità italiana tra cui roberto goitre giovanni acciai e dario taglia noi siamo un coro polifonico misto cosa vuol dire vuol dire che uniamo maschi e femmine quindi tenori bassi soprani contralti per cantare principalmente a cappella ma ci dedichiamo anche a musica con ansambli strumentali ed orchestri in alcune occasioni il repertorio che adoriamo è principalmente quello della musica antica la pratichiamo da sempre sia sacra che profana quindi molti madrigali ma anche arrivando la musica contemporanea e anche a quella pop più moderna sicuramente la nostra pratica non è solo quella delle prove facciamo concerti principalmente a torino ma ovviamente partecipando a festival in italia oppure organizzando degli scambi con altri cori universitari italiani abbiamo anche concerti fuori regione e spesso anche all'estero in occasione di alcuni festival o di concorsi davvero pregevoli ovviamente non ci piace solo cantare ci piace anche approfondire e studiare il repertorio che io propongo e che amiamo cantare lo facciamo con seminari di studio di approfondimento o come per esempio gli ultimi fatti con alessandro patalini sul respiro e la vocalità oppure con il bravissimo giuseppe maletto che ci ha guidato lungo l'analisi del repertorio madrigalistico legato al testo dell'orlando furioso ovviamente per cantare sempre meglio abbiamo bisogno di una vocalista e la nostra maestra di canto è marcella polidori ormai da tanto tempo che ci segue sia individualmente che a sezioni per cantare con noi è molto semplice dovete semplicemente tenervi libero il mercoledì sera dalle 21 alle 23 15 ci ritroviamo come vedete dalla cartina in una zona di torino molto centrale presso la scuola tommaseo in piazza cavour e quindi a due passi dal conservatorio giuseppe verdi qualche volta proviamo anche di lunedì perché magari ci viene utile poter provare sezioni oppure fare degli approfondimenti specifici per il repertorio ma ricordatevi in ogni caso partecipare all'attività della corale è gratuito e speriamo davvero di potervi conoscere nei tradizionali open day che realizziamo ogni anno per unirvi per permettervi di unirvi a noi nei nostri concerti come per esempio quello che vedete qui a cui siamo particolarmente legati svoltosi presso il museo egizio nel giugno 2018 oppure al bellissimo festival sulle rive del po cantar sotto i ponti sempre nello stesso mese ovviamente la corale universitaria è un'emanazione dell'ateneo torinese e quindi partecipiamo a una serie di iniziative come l'apertura dell'anno accademico alcune lauree honoris causa e i tradizionali concerti presso l'aula magna del rettorato essendo uno dei più importanti core italiani per fortuna abbiamo spesso anche l'occasione di cantare in festival importanti come per esempio mito settembre musica qua alcune istantanee del concerto realizzato proprio nel settembre 2019 dedicato alla musica del nuovo continente messicana e argentina sia antica che moderna non mancano le occasioni per far festa per partecipare a quella che deve essere una normale vita gogliardica per fortuna e che cosa resta da dirvi venite a conoscerci venite a trovarci e a cantare con noi per contattarci basta molto semplicemente andare sul nostro sito o scriverci alla mail e speriamo di potervi conoscere presto e dopo un po di parole vi vogliamo salutare con il nostro inno gaudeamus sigitur un inno gogliardico che viene intonato in tutte le università del mondo buon canto e buona musica a tutti gaudeamus sigitur giuvenestum sumus postiucundam giuventutem postiucundam giuventutem postiucundam giuventutem vivat accademia vivat professores vivat omnes virgines faciles formose vivat membru quodibet sempre sigit in flore sempre sigit in flore peria cristitia peria cristitia peria antos ores peria cristitia peria antos ores peria timamurus vivi santi bruscius Anto e il 2 addio a nato a nato a nato Grazie a tutti